e si va a pt 65 mitico pt 60 nel mezzo sarà questa la volta buona e questa forse intanto è molto bene perché così se arriva gallagher è una multi in più che possiamo utilizzare nel caso della sua light con che potrebbe essere molto interessante quindi vediamo come va gallagher insieme tanto sappiamo chi è lei questo è 46 56 56 57 58 59 60 no 61 62 o mai 4 stelle vabbè per 6 esatto 54 e a fine multi l'ultima singola 55 55 ragazzi ma questa è una pretesa un po eccessiva a 6667 lo vorrebbe triplo 5 stelle niana ha detto il signore non capiterà mai ma veramente vabbè raga ve lo rendo più divertente se arriviamo a 6666 sub baniamo sia paolo che albi invece solo albi due al prezzo di uno ok una pull e acheron eccola qua ci inchiniamo ringraziamo pittina oh eccola iliana iliana oh mio dio iliana guarda guardate vuoi non mi credere nessuno un mio dio domani divento milioni aria per favore bravo ah ti ricordo il sogno di ieri mattina dai c'è lei eliana pure questa io non so dove sei arrivato non ci credo bene 74 74 let's go early early piti aiuto 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 early che poi si può chiamare early in realtà si perché questa è la singola 65 vabbè dai guardiamo il lato positivo se si è perso si è perso in una multi e mezzo se si è vinto gg però se si è perso sappiamo anche che arriva di sicuro quell'altra vediamo se sono diventata povera tu giulina hai votato per il no va bene vediamo dai non dico niente non dico niente non dico niente 70 71 71 72 73 l'ultima l'ultima ragazzi la 74 è early 64 niente clara yes ce l'abbiamo è qua è qua ce l'abbiamo let's go vediamo se esce prima del soft perché c'è una scommessa in atto quindi contiamo attentamente basta però basta però basta comunque 71 72 73 74 ultima per essere early 75 niente è dopo 76 77 78 79 80 l'ultima 80 proprio all'ultima all'ultima una cessa bellissima ma una cessa quindi una cessa bellissima o una bellissima cessa andiamo a 70 scherzavo prima è lì stella si ce l'abbiamo early oddio 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 abbiamo detto no che panico martina la vostra mi sento così io e faccio così come questo gattino allora abbiamo detto se non dovesse essere lei tutto tranne non dico cosa esatto il micetto così letteralmente dai allora questa era 61 62 salve 63 64 65 oh ragazzi 66 66 in fondo è sempre lì 68 un cesso un cesso nuovo il piano siiii bene e andiamo a pt 24 è un'ottima la icon è un'ottima oh oddio 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 ecco appunto l'ho detto quella mia tascia oddio oddio che si fa cos'era l'ultima stella avevi perso il 50 e 50 o abbiamo il 50 e 50 anche qui sta scrivendo momenti di tensione io ho la tarchicardia comunque arma di nine hang drago eccoci allora niente dai allora questo era eravamo a 14 quindi 15 15 16 7 18 io sto male 19 20 21 dove dove è dove è l'ultima è l'ultima raga è l'ultima c'è anche ania questa è l'ultima yes con ancora una un'ostellazione di ania 75 eccola eccola ce l'abbiamo ce l'abbiamo oggi a p di 75 cosa è cosa è yes brunio brunio che le mancava andiamo a 24 io non ci posso credere ragazzi non è vero non è vero raga dai non è vero no 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 aiuto eh aiuto 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 vabbè benji allora funziona così adesso funziona così adesso ti mando l'iban no scherzo a parte gli scherzi qua o va che ehm eh il cazzo di di france che cos'è quella risata storta no comunque a parte gli scherzi l'iban poterò mando su telegram però dicevo eh adesso funziona così o troviamo appunto agaron e nel caso valutite se vuoi usare per la light con se hai pochi personaggi vuoi continuare cioè vuoi tenere da parte o se no eh veramente nell'altro caso se perdi il 50 e 50 la troviamo comunque perché abbiamo abbastanza di pul per tornare di nuovo al soft quindi puoi essere felici in ogni caso in questa tua esistenza felice su star rail beato te allora questo era pt 15 win win assolutamente sì 15 16 17 18 non ci credo non ci credo l'unico che già aveva e vedete dov'è c'è sempre la fregatura c'è sempre la fregatura in questo gioco ehi sperando che esca qui yes bene almeno tieni perfetto almeno tieni hai 14 pull di là più qualcosina qui tipo 3 4 pull anche qua l'ho fatto apposta perché se uscivano queste non dovevamo consumare altre risorse top vediamo dov'è questa era 67 68 69 ok il trend dell'universal market ce l'avevi già 70 71 72 73 74 75 e l'ultima proprio preciso per chiudere con averon 76 eccola qui 74 andiamo a 84 multi del 5 stelle almeno che non sia una cessa e esca dopo ok meno male no no ragazzi perché poteva essere poteva essere quindi alzo le mani vediamo e col 50 e 50 con il 50 e 50 è vero potrebbe essere qualsiasi anche questa ok oh mio dio c'è la light cone oh mio dio ragazzi oh mio dio aspettate ho cliccato su per sbaglio qua ok c'è avevo il coso ok avevo il coso mutato ve l'ho messo con volume oh mio dio c'è la light cone ok proseguiamo 76 77 78 79 80 che c'è essa 81 mutatevi subito mutatevi subito muto muto stretto facendo la multi si ha deciso di fare la multi ok multi perfetto ragazzi multi del 5 stelle che tanto vediamo 61 62 niche alle 22 poi 63 64 65 siamo al soft 66 67 68 69 no oh mio dio no oh mio dio è lei piti 69 no no vediamo ecco oh mio dio oh mio dio oh mio dio come nelle sale scritture al terzo piti al terzo piti aiuto oggi oggi mi chiudono non voglio non voglio questo qua comunque 24 allora qui la cosa è la seguente o hai l'E1 dell'Aeron o hai il garantito per il futuro quindi mamma mia mamma mia che bella vita la tua niche e probabilmente ancora nessun galla che te niche pensa te è vero è vero se a fine multi potrebbe essere a 33 eh è l'ultima la 33 è l'ultima forse no ragazzi è 33 davvero? oh mio dio proprio oggi? non ci posso credere no no alla prossima oh mio dio oh mio dio nooo l'ultima cosa c'è l'ultima che dice vanno bene tutti tranne Bailu oh 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 in anticipo dai bene bene dai raga spammate ste banane let's go capita allora partiamo da questa che era 41 esatto non era 51 scusate no no andavamo a 50 andavamo a 50 quindi siamo con la prima singola e tu è 41 è vero no scusate non ti preoccupare ti preoccupare ci abbiamo messo anche noi tanto tempo per imparizzare ad allentare questi meccanismi e ancora molto sbagliamo ok quindi questa era 42 poi andiamo a 43 ok una costellazione 44 piti gatti ok niente 45 46 piti valentino ok 47 oh yes sì piti 47 early piti e 50 e 50 e 50 vinto corex sì sì non siamo andati al soft vince chi ha votato per arriva prima del soft perché ci fermiamo a 73 con questa volti quindi non arriviamo al soft piti quindi vabbè c'era anche lei giustamente ok quello era 64 65 66 67 68 69 meno male se no cram ripartiva 70 71 70 72 ed era l'ultima 73 ecco ecco eccoci qua eccoci qua 5 stelle confermato 5 stelle confermato vediamo che cosa è così capiamo anche cosa prendere di là ok allora la prima è 76 allora la prima è 76 quindi può essere subito la prima ok 77 78 la light con per velt hai qualcuno nikilti che utilizzi è molto buona è molto buona io questa l'ho messa su kafka a casa la sua rossa vuoi confermare i meko? sì eccola qua eccola qua lei la rossi lover più il rossi lover dei rossi lover totalmente eccola qua ce l'abbiamo eccola eccola pt 74 prima del soft pt in singola la nostra donna arriva nell'account del nostro pollo sua maestà Acheron cioè raga vi rendete conto? 80 e che palle è 80 80 e che palle 80 perdendo il 50 e il 50 pt 75 comunque poi ti vedo e mi passa tutto perché sei troppo bella però sei un po' una stronza nina bella mia e va bene va bene vediamo vediamo allora intanto c'è ragazzi non è scontato perché se arrivava io da iaca l'ho trovata all'87 quindi non ci sarebbe stata nemmeno in questa multi quindi io quando vedo che c'è è già qualcosa adesso vediamo chi è lui ma sarà solo? è lui lui subito l'ha detto lui ha detto usciva nelle prime 5 usciva nella prima quindi c'è il doppio ragazzi che è successo? era un fio così cioè vabbè un fio tipo un fio così un respirone vediamo qui doppio pom pom che vola 76 7 eccola chiaro Fabio non poteva che vincerlo è impossibile chiaro Fabio non poteva che vincerlo 83 eccola guarda era un fio? visto? basta chiedere qualcosa no è una singola è la singola ho tirato sull'audio della live mi piscio la canzone visto raga vabbè Fabio ok visto ciao stava semplicemente stare zen questa è molte 5 stelle l'hanno fatto un po' troppo rotta vediamo se ce ne sarà una seconda se ce ne è una seconda abbiamo la buona possibilità di fare quello che Archie vorrebbe fare quindi vediamo intanto dove sta la prima questo è 75 76 77 78 79 eccola qua che è la tipo la terza volta che lei esce a 79 in questi giorni mi sembra vediamo allora questa era 65 66 67 68 69 oddio no vabbè il porce ha scritto in chat io ti fò per Clara banner è un grandissimo cesso subito per la copertina di youtube il cesso il cesso la betta sta già ascoltando e formulando idea per fare una copertina pazzesca già di nuovo 69 di nuovo 69 di 69 ma quello prima oddio oh oh mio dio zitti finalmente pitti gatti che stiamo facendo pitti gatti zitti zitti mamma mamma è finita anche la canzoncina zen oh oh basta basta mi hai rotto basta sei come un maledetto pollo proprio uguale non lo siete perché voi avete fatto danno io eccoci due 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 baniamo Federica due baniamo Federica due due se l'hai copinta e sette eccola questo era nostro ai 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 due due sei sette otto che palle nove l'ultima l'ultima l'ottanta 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 69 cioè che c'è distraction per tutti distraction no la light con la light con di Mako bracco balzo oh oh eh oh dio ho visto male zitti 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 l'ho genito e zene attenzione e due raga alla fine ce l'abbiamo fatta e due le scingole sono la via vattene subito a questa chiamata vattene immediatamente vattene oddio lui ha detto che voleva leggere l'icon lui ha ordinato l'ordine è arrivato tassini per favore believer è prima andata comunque io mi sento pazza c'ho la mano nella fronte c'ho la sua bocca allora oddio oddio amiche Justin Bieber ora aspetta fermi tutti non andare oltre non andare oltre un attimo solo ci meritiamo questo momento un attimo solo pochi secondi di pura felicità allora alzare il volume no devo mettermi la cuffia per forza già se ne è venuta a Napoli metti nelle pool voglio di farnello voglio di farnello dove è eccoci è stato Justin Bieber grazie Justin continua la muti con Justin dai fede dai vai 32 32 e niente oddio 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 non l'avevo vista oddio 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 29 basta 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 fatela rientrare per favore adesso grazie non d'accordo tanto poi comunque il PT si monta anche di là quindi ok dai due luocia no no uno e qualcos'altro magari una luocia e una bailu no basta la bailu fortissima ma è già uno basta guardi la prima la prima 65 76 che caga ok 76 77 78 è 79 79 no 80 90 piccolo ok oh Eliana 6 mesi di attesa cosa dici a quest'uomo vaffanculo potevo uscire prima ok credevo fosse una dichiarazione d'amore non è proprio andata così io lo amo io mi aspettavo un momento carino vabbè vediamo padre la figlia preferita lo sapevo la figlia preferita arrivava per forza è la più drogata della liga delle leggende non poteva essere lei arrivato a me siete tutti sui coglioni comunque ve lo dico eh ve lo dico già a prescindere da quello che esca abiti così basso mi siete tutte sui coglioni ok tranne la petta 16 a me siete tutte le mie figlie preferite 17 18 il mio egocentrismo non è molto d'accordo però lo accetto l'era è tanto fa il conteggio da sola la torniamo dei fatti rossi la 22 la prossima oddio eccoci eccolo 73 la idea di me è quella giusta perché se no mi viene un un 73 tempo scrivo vediamo il ti subito eh vai a far in culo Eliana io ti darei multe a diritto io ci vado molto basta yes ecco non si sa se le o meno non si sa ma quindi cosa speriamo di perdere non lo so no è la e1 io non so cosa curarti ok nel dubbio eccola ok nel dubbio 는 willa terrorist non u no di ai non ti di a o o o o o